eccoci qua in un precedente video avevo parlato di quanto sia importante il discorso della fiducia dell'affidarsi all'universo anche perché uno degli equivoci più grossi che si possa fare per quanto riguarda il manifesting l'energia universale la legge di attrazione eccetera eccetera è proprio quello di pensare di avere pienamente il controllo della situazione cioè l'idea è quella di ok infilo la monetina vi ricordate jukebox una volta infilo la monetina scelgo quella che è la musica adatta e mi arrivo alla musica adatta in realtà le richieste non funzionano in questo modo funzionano in maniera completamente diversa perché come ho già detto in altri video ci sono le leggi universali ci sono le convinzioni interne e tante altre robe ma c'è anche un altro aspetto molto importante che è quello dell'affidarsi all'universo questo permette in qualche modo di mettere in atto meglio quel concetto e quella legge universale che è quella della bipolarità energetica che è fondamentale cioè quella del distacco è importante che tu costruisca quella che è una grande fiducia nell'energia universale che a prescindere da quello che accada va bene lo stesso questo è importante perché qui entriamo proprio di un concetto molto più ampio l'energia universale si muove affinché tu possa comunque ottenere il meglio soltanto che funziona nei momenti in cui tu sei in uno stato emotivo giusto nei momenti in cui tu entri in uno stato emotivo per esempio di rabbia di non affidamento quindi non ti affidi non hai fiducia nell'energia universale praticamente stai bloccando il momento di basso tra virgolette cioè cosa vuol dire siccome nella vita ci sono alti e bassi quando c'è un momento di basso quello che può accadere è che tu possa ovviamente arrabbiarti intristirti sentirti risentito eccetera eccetera tutti questi stati fanno in modo che il momento di basso si prolunghi maggiormente prolungandosi maggiormente non esci più non uscendo né più si prolunga all'infinito fino a quando tu non cambi stato e allora è qui che subentra l'affidarsi all'energia universale cioè avere fiducia in qualcosa di più ampio ora questo è un concetto che già noi conosciamo nel senso abbi fiducia in dio no abbi fiducia nella providenza ora possiamo anche dire abbi fiducia nell'energia universale abbia fiducia nell'universo che in qualche modo muove le cose affinché vadano nella giusta direzione io ripeto spesso sono lì che costantemente alle persone care persone che attorno dico sempre di avere fiducia nonostante magari accadano delle cose negative delle cose che non vorremmo ma come ho detto in un precedente video a volte queste capitano proprio perché servono per farci evolvere per darci degli insegnamenti di vita allora avere questa visione della mente quantica del manifesting della legge di attrazione è fondamentale perché perché ti sgancia da quell'illusione che ti vendono il guro di noi altri che tu hai il pieno controllo su quello che accade non è proprio così noi conoscendo tutti questi meccanismi riusciamo a sintonizzarci con qualcosa di molto più ampio facendo questo riusciamo a fare tra virgolette surf con l'energia universale si fa sempre un po' il paragone del surfista il surfista non ha il controllo del mare semplicemente il surfista a lungo andare prende una certa dimistichezza una certa confidenza con quello che è il comportamento delle onde del mare a furia di fare tutta una serie di cadute impara per esempio a prendere quell'onda gigantesca e fare delle cose straordinarie ma il surfista non sta controllando l'onda ha imparato a entrare in sintonia con l'onda per fare delle cose straordinarie e allora bisogna capire una cosa fondamentale una cosa importante che affinché questo funzioni nella nostra vita dobbiamo entrare in sintonia con i ritmi dell'universo con i ritmi dell'energia universale e comprendere che ci sono dei momenti in cui le cose ci vanno bene delle cose in cui viviamo straordinariamente la nostra vita ci arriva il lavoro desiderato ci entrano più soldi incontriamo la persona giusta abbiamo un periodo di una storia sentimentale straordinaria abbiamo un momento in cui la nostra salute è al top magari guariamo anche da qualcosa che insomma siamo finalmente contenti abbiamo raggiunto un obiettivo un qualsiasi tipo di risultato quindi ci sono dei momenti di alto ma ci sono dei momenti in cui a volte le cose non funzionano per esempio uno viene licenziato per di lavoro non arrivano i soldi di qua di là ora è ovvio che in tutte queste situazioni bisogna agire su un piano reale che è fondamentale che vuol dire darsi da fare che è importante non dare ascolto a quegli stati interni negativi che ci vanno a buttare giù quegli stati interni che ovviamente sono delle reazioni automatiche ci hanno insegnato alla fine ad avere queste reazioni sono purtroppo il frutto di tutta una serie di condizionamenti genitoriali sociali così via imparare a non reagire in quel modo ma essere costruttivi non è un caso che tutte le persone che hanno successo e non quelli nati ricchi o raccomandati o altro persone che sono nate dal nulla hanno una caratteristica molto interessante che quando le cose li vanno male queste persone semplicemente vanno avanti si concentrano mentalmente su cose positive che potranno fare si concentrano sulla soluzione non si concentrano sul negativo che in quel momento hanno nella loro vita cioè mettono in atto i comportamenti per risolvere le questioni quindi fanno le azioni concrete per risolvere se possono risolverlo il negativo che hanno ma allo stesso tempo si concentrano su altro ok pensano per esempio a progetti futuri a cose belle che possono aumentare il loro stato interiore e quindi costruiscono altro faccio un esempio se io facevo l'esempio per esempio del lavoro ma potremmo fare l'esempio di una storia sentimentale che a volte ci fa anche più male tante volte perché perdiamo la persona amata fino a quando stiamo lì a star male per questa persona che abbiamo giustamente insomma si sta male perché l'abbiamo persa e ok ci sta difficilmente usciamo anche concretamente da quello stato e dagli eventi che perché poi più sto male e più mi arrivano eventi che mi genereranno altro stato negativo allora conviene a quel punto per esempio uscire cominciare a vedere altre persone ma non perché mi devo mettere con altre persone io ricordo anni fa quando mi lasciai con la mia storica che fu comunque una botta non è che fu una cosa così semplicemente mi dissi cioè non è che sono stato bene ho preso la botta sono stato male e perché giusto così ma anche perché erano tanti anni insomma avevamo una storia però allo stesso tempo ho cominciato a concentrarmi su cose che mi facevano stare bene cominciato a uscire con amici cominciato a fare cose che mi piacevano mi sono concentrato a fare cose che tiravano su non solo il mio stato emotivo ma tiravano sul mio livello energetico perché poi il livello energetico è fondamentale perché questo mi permette poi di cocreare la realtà desiderata ok bene poi magari di questo ne parlo nel prossimo video perché ti può essere veramente d'aiuto e ti può far capire come funziona poi questa storia del livello energetico bene spero che questo video ti sia piaciuto se ti è piaciuto mi raccomando like e pollicioni su mi raccomando condividi questo video con i tuoi amici e se non ti sei ancora iscritto al canale iscriviti adesso e clicca sulla campanellina così sarai sempre avvisato su ogni nuovo video e ti mando un abbraccio un bacio al prossimo video ciao